Amici Trebi Meteo, bentornato a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che nel complesso sarà tranquilla grazie alla rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, solo le nostre isole maggiori strano l'ambite da correnti orientali un po' più fredde e un po' instabili. Quindi in definitiva anche come nuvolosità poco da segnalarvi, qualche addensamento si farà vedere in giornata di passaggio ma davvero appunto nubi di passaggio con anche sempre ampie zone di sereno. Come precipitazioni anche lì poco da dire, qualche nivicata potrebbe interessare le cime alpine di confine sulle Alpi orientali e poi qualche locale piovasco andrà a interessare in giornata la Sardegna, specie il versante tirrenico e anche l'estremo sud della Sicilia, però davvero fenomeni isolati. Quindi in definitiva giornata di bel tempo con ampie zone di sereno da nord a sud, solo qualche addensamento di tanto in tanto di passaggio, locali acquazioni diciamo sulla Sardegna tirrenica e nel sud-est della Sicilia, temperature però ancora piuttosto basse di notte a primo mattino con minime sotto zero in varie località del centro nord. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su 3dmeteo.com